Sono veramente felice di essere qui e spero che sia anche un passino avanti per la mia carriera. Sono in tanti, so che mi hanno seguito anche come tifosi dall'Egitto e si sono informati molto del mio passaggio dal Chelsea qui alla Fiorentina e naturalmente anche per loro spero di fare assolutamente del mio meglio. Sono in tanti, 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 sono in tanti e sono in tanti, 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 sono in tanti. Avevo già affrontato il Tottenham con il Basilea, un gol importantissimo per me in quel caso che permise la qualificazione al turno successivo proprio del Basilea, quindi speriamo che sia una bellissima partita anche in questo caso con la maglia della Fiorentina. In Europa League poi ho servito anche cinque assist in quella stagione, quindi insomma è una competizione che mi piace e spero che andrà benissimo anche qui. Sì, con Egazzi ho parlato, il mio connazionale naturalmente mi ha raccontato tutto di qui, dello spogliatoio, di come si sta bene in questo gruppo, dei ragazzi che sono giovani e anche del modo di giocare a calcio qui, sicuramente servirà anche alla mia crescita professionale.